Grazie a tutti. 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 Parigi 2024 non è poi così lontana. Notizia che riguarda lo sport bellunese. Ancora sci di fondo. Elia Barpa subito stupito dai ritmi di Coppa. Vanno tutti fortissimo. Calcio. Mini vacanza finita. Dolomiti pronta a scalare la classifica. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la foto di copertina è un omaggio a Benedetto XVI. Iosef Ratzinger, Papa Benedetto XVI, 1927-2022. Questa invece è la notizia a piena pagina che apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Il report del 2022. Il problema dello spopolamento in provincia di Belluno. I morti doppiano i parti. Usl provincia a rischio. L'azienda è la possibile desertificazione. Una comunità non è in salute con una natalità così bassa. Preoccupano, scusate, abuso di alcol e fumo. I bellunesi sono attivi fisicamente ma il 9% è obeso. Settore immobiliare, case in vendita o da affittare. Il mercato è in esaurimento. Le feste di Capodanno, da Belluno fino a Falcade, tanta allegria nelle piazze. E ancora, verso Milano Cortina 2026, Christine Lean è un errore recuperare la pista di Bob. Il buco nero del 2026 sta ancora lì, a Cesana con la sua carcassa. Quel che resta di una pista di Bob che l'Italia non può sostenere. E ora si rischia di ripetere l'operazione con un'altra pista a Cortina. Evelina Cristellin, che 17 anni fa guidava l'organizzazione delle ultime Olimpiadi italiane, ricorda i tentativi di evitare l'errore. Fu la politica a decidere. Non vorrei succedesse lo stesso anche per i giochi del 2026. Altre foto di copertina che riguardano l'ultimo nato del 2022 e il primo nato del 2023. Noa non aspetta il nuovo anno e Mattia il primo nato del 2023. E sempre a proposito di sport, un altro richiamo. Steffi Costantini, Stefania Costantini, personaggio belunese del 2026. L'oro olimpico del curling misto vinto a Pechino con il compagno di squadra trentino Amos Mosamer e l'incredibile ondata di popolarità che ne è seguita. E' senza dubbio la cortinese Stefania Costantini, il personaggio sportivo belunese dell'anno. Questa dunque è la prima pagina delle Corriere delle Alpe. Ed entriamoci al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Poi proseguiremo con i fatti prettamente belunesi. E la notizia in primo piano riguarda la morte di Benedetto XVI. Il testamento di Ratzinger è morto a Roma a 95 anni. Benedetto XVI, signore ti amo, le sue ultime parole. Nel 2013 la rinuncia shock al papato dopo gli scandali Vatilix e pedofilia. Il ricordo di padre Georg, segretario particolare di Benedetto XVI, non era un papa attore e ancor meno un insensibile automa papale era e rimase pienamente umano anche in carica. La vergogna per i casi di pedofilia portò il santo padre ad affermare di voler fare di tutto perché simili casi non si ripetessero. Dopo la rinuncia al papato non ha mai avuto un momento in cui ha dubitato o detto me ne pento. Nel 1977 Paolo VI lo nomina arcivescovo di Monaco a soli 50 anni. Era un teologo chiuso verso omosessualità e matrimonio dei preti a difesa della dottrina. Il cordoglio dei fedeli, Francesco, grazie a Dio per il dono di Iosef, attese 30-35 mila persone al giorno a San Pietro. Il lutto rilancia le voci sulle dimissioni di Bergoglio. Vediamo in questo scatto la salma di Ratzinger che si trovava nel monastero Mater Ecclesiae da oggi sarà nella Basilica di San Pietro. Nel 2006 una sua citazione di Maumeto solleva le proteste del mondo islamico. Tercisio Bertone provai a fargli rinviare la rinuncia ma aveva deciso nella preghiera. Il cardinale ricorda il pontefice che lo scelse come segretario di Stato nel 2005. Un uomo colto, gentile e incompreso, altro che un papa reazionario. Iosef Ratzinger voleva rimediare alla secolarizzazione e alla perdita di fede ma gli intellettuali europei ignorarono il suo pensiero sofisticato. Basta leggere l'introduzione al cristianesimo del 1968 per rendersi conto di quanto la sua teologia fosse avanzata. Andiamo avanti con il richiamo invece di Benedetto XVI con il territorio bellunese al Dio al Papa Emerito. Siamo a pagina 6. Il cadore lo ricorda a passeggio nei boschi, diceva le Dolomiti il giardino di Dio. E' ancora vivo ricordo del soggiorno a Lorenzago nel 2007. Il suo pensiero era riferito alle troppe guerre, inutili stragi. Partì da lui la beatificazione di Giovanni Paolo I. A un cronista confessò, io Papa Luciani lo prego già come un santo. A chi lo incontrava chiedeva quasi scusa per il disturbo che stava procurando. Ed ecco alcuni scatti appunto della visita di Benedetto XVI in Cadore. Era il 2007. Sempre altre visite di Papa Joseph Ratzinger in provincia di Belluno. Nel 2004 venne a Santa Giustina e Belluno. De Donà voleva festeggiare col Cumano. Ieri ricordo del Vescovo Renato Marangoni ci ha accompagnati ruminati sulle strade della fedeltà a Cristo. E' sempre in merito a Benedetto XVI quei due giorni a Venezia tra San Marco, la gondola e la messa a San Giuliano davanti a 200.000 fedeli. Il 7 e 8 maggio del 2011 la visita in Veneto di Papa Benedetto XVI ad accoglierlo l'allora patriarca Angelo Scola e gente da tutto il nord-est. Altri scatti in questo caso della visita in Veneto di Benedetto XVI. A pagina 10 invece ci aspetta un approfondimento riferito al giorno più caro se inizia bene il 2023. Stangata ad inizio anno sui carburanti, trasporti e pedaggi autostradali. 9 euro in più per il pieno su anche bonus, su anche bus e metro. In arrivo i rincari del gas. Questa è la fotografia, gli aumenti previsti per l'anno nuovo. Bollette, il bonus sociale sale da 12 a 15.000 euro. Sigarette, il prezzo del pacchetto in media 5 euro, cresce di 10,1 centesimo di euro. Tassa di soggiorno, i comuni turistici possono alzarla con facilità fino a 10 euro. Tabacco trinciato, rincaro di 40 centesimi. Contante, il tetto sale da 1.000 a 5.000 euro. Carburanti, niente più accise e ridotte dal 1 gennaio su benzina e diesel. Eliminato anche lo sconto, il residuo di 18 centesimi. Pedaggi, un aumento del 2% sui percorsi di autostrade per l'Italia. Le sfede dell'economia, Marina Elvira Calderone, va sostenuto il potere d'acquisto, il cuneo fiscale da tagliare del 5%. La ministra del lavoro, su reddito, separare l'assistenza dalla ricerca dell'impiego per le pensioni via dal 19 al confronto con le parti sociali su una riforma complessiva. E sempre a proposito di politica, il futuro per Mattarella. Nel discorso di Feniano, il presidente della Repubblica chiede alla politica di fare i conti con la modernità, stiamo nel nostro tempo non in quello passato e parla di salute, giovani e transizione ecologica. Ecco alcune dichiarazioni fatte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo discorso di fine anno. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché serve a far funzionare l'Italia. Occorre operare affinché la sanità si rafforzi ponendo al centro la persona. Quando guidate, avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela. Il primo gennaio sarà il 75esimo anniversario della Costituzione, che resta la nostra bussola. Il caprifuoco in tutto il paese. Su un ordigno la scritta Buonanno, Zelensky, combatteremo fino alla vittoria. Notizia che ci porta in Ucraina. Ucraina, un capodanno di guerra. Sciame di droni russi. Attacca Kiev. Veneto, la regione toglie ai medici di base la scelta dei tempi per esami e visite. In arrivo un modello automatico che stabilirà le priorità. La FIMG si ribella e diffida a cambiare il software in uso. Solo chi vede il malato sa se gli accertamenti vanno fatti subito o si possono rinviare. Ancora dal Veneto, bimbo travolto dalla neve. Vescezza dal tetto della Malga, grande paura, ma sta bene. L'incidente è avvenuto nella nostra provincia, nel comune di Falcade. Viabilità Veneta, la pedemontana, la prova dei fatti dopo 11 anni di cantieri, il corridoio nord-est e l'incognita costi. Per gennaio è annunciata l'apertura del collegamento con l'A27. A primavera, invece, il completamento dell'intero tracciato. I sindaci temono le ricadute del traffico sulla rete locale, le imprese e il peso dei pedaggi. Intanto cresce il cemento circostante. E adesso spostiamoci alle notizie che riguardano il Veneto. Si apre con una notizia che deve farci sicuramente riflettere. I morti doppiano i nuovi nati, la comunità non è in salute. Il direttore Cinqueti preoccupa la piaga legata al consumo di alcol, belunesi sportivi, ma obesità e fumo portano malattie. A un futuro una terra dove ogni mille residenti avvengono sei nascite, peraltro stabili da cinque anni, mentre si verificano dopo dei decessi, anzi di più, 13,4. Ovviamente no. È la risposta di Sandro Cinquetti. Questa non è una società in salute e non sarà mai l'immigrazione a garantire un futuro, oltretutto perché il saldo migratorio dal 2018 si è dimazzato, passando da 3,3 a 1,5 sempre ogni mille abitanti. Dunque, a questo punto, il belonese vuole lasciarsi desertificare e quindi morire. Pensare che una comunità possa ritenersi in salute con una natalità così bassa sbagliare completamente e prospettiva. L'approfondimento vi aspetta a pagina 22. Ma è riferito invece alle notizie belle, cromoterapia e musicoterapia per far nascere Mattia e Francesco, a feltre i primi parti del 2023, Noah e Pietro gli ultimi del 2022. Intervista anche al presidente della provincia Roberto Padrini, in merito appunto alla denatalità in provincia di Belluno e al suo spopolamento. Il problema della natalità per la montagna pesa di più, il presidente Padrini non nasconde la preoccupazione per lo spopolamento della montagna. Ogni anno perdiamo più di mille residenti, servono più risorse per potenziare i servizi. Tumore, numeri sempre alti, ma gli screening portano risultati, in ascesa i melanomi cutanei tra esami per la prevenzione. Pagina 24, Cristillini, il bomba Cesana, l'unico errore, la pista di Cortina ce ne sono all'estero. La donna a capo di Torino 2006, noi non la volevamo, ma ci furono pressioni politiche. Al presidente della regione Veneto Zaia dico meglio evitare. Giulia Zonca, il buco nero del 2006, sta ancora lì a Cesana con la sua carcassa, quel che resta di una pista di Bob che l'Italia non può sostenere. E ora si rischia di ripetere l'operazione con un'altra pista a Cortina. Evelina Cristillini, che 17 anni fa guidava l'organizzazione delle ultime Olimpiadi italiane, ricorda i tentativi di evitare l'errore. Ci prendiamo la responsabilità, però allora fu la politica a decidere e non vorrei succedesse lo stesso anche per i giochi del 2026. L'intervista vi aspetta a pagina 24. E adesso un'altra notizia che interessa i bellunesi. FIAIB, case da vendere o affittare, il mercato è via di esaurimento. Giuliano Dalmagro guarda al 2023 del settore immobiliare. I cantieri edili sono fermi per il caro Materie Prime. E se il 2023 in provincia di Belluno rimanesse senza case da vendere né nuove né usate, già peraltro è difficile trovare appartamenti in locazione, specie da due o tre camere. Ecco perché i professionisti e i medici in particolare sono costretti a rinunciare al lavoro ai piedi del Monte Servo. Giuliano Dalmagro è comunque fiducioso, classe 73, nato a Feltre, agente immobiliare da quando aveva 19 anni e presidente della FIAIB di Belluno, una cinquantina fra le maggiori agenzie della provincia. Ecco alcune dichiarazioni che troverete in questa intervista. Domanda in crescita per combattere l'inflazione. Molti puntano sul mattone. All'oggi in affitto purtroppo sono pochi, così molti rinunciano al lavoro in provincia. E adesso i festeggiamenti di fine anno nel territorio bellunese. Migliaia di bellunesi in piazza per il Veglione. Un pienone a Falcade, Piazza dei Martiri. Ha salutato l'anno nuovo con i fuochi d'artificio, tutto esaurito in Val Biuis e festa molto riuscita anche in Nevegale. Ed ecco alcuni scatti dei vari eventi che si sono succeduti in provincia di Belluno. A Pontenelle Alpi invece proprio a Capodanno vi è stato un incidente schianto a Cadola e l'auto si capovolge, ferito il conducente. Tre cassonetti bruciati dai botti di Capodanno fra Belluno e Lentiai. Purtroppo avvengono anche questi fatti tristi in occasione delle feste di fine anno. Siamo a pagina 27, decollano i progetti per i campi sintetici di Mugnai e Sedico. Firmate le convenzioni in merito al Fondi dei Comuni Confinanti. C'è anche il centro ittiogenico Bond, risposte concrete alle esigenze del bellunese. Notete a di spalle bilancio e prospettive donne, lavoro, asili. Il Fondo Welfare fa rete con il territorio. Anche nel 2022 abbiamo portato avanti attività a favore dei bellunesi, delle famiglie, delle donne e delle comunità locali e abbiamo fatto rete tra le diverse realtà che animano il territorio provinciale. Nel 2023 vogliamo continuare su questa strada. È il proposito della Presidente del Fondo Welfare e Identità Territoriale, Francesca De Biasi, nel tracciare un bilancio di quanto fatto nell'anno appena finito e nel guardare a quello appena iniziato. Notizie che riguardano il Feltrino. A pagina 28, pedavena, si sistemano le frane a Carpe. Nell'ultimo Consiglio Comunale porta in dote una lunga lista di interventi tra cui spiccano Monte Avena, Ciclabile e Piscina. Nel sindaco Castellazzo lavoriamo per evitare di dover aumentare le tariffe nel 2023. E sempre a proposito di pedavena, movimentati oltre 2 milioni di euro in nuove opere e manutenzioni, l'amministrazione numeri importanti per un piccolo comune. Pagina 29, un migliaio di soci e 80 volontari, mano amica da 25 anni con chi soffre. L'associazione affianca l'usla Dolomiti nella cura dei malati senza possibilità di guarigione con personale formato. Feltrino, viatezze, fiamme dal camino, vigili del fuoco sul posto evitano gravi danni. Sempre da Feltrino, estratti i biglietti vincenti della lotteria, arcobanino tutti i numeri li troverete a pagina 29. Per quanto riguarda la rubrica cultura e società, il pilota direttore incanta il pubblico della Fenice, classico bis con Verdi per la sua quarta volta, applausi anche per orchestra, coro e solisti e uno struggente lacrimosa dal requin di Mozart per Papa Benedetto. Tutto questo in occasione del concerto di Capodanno che si è svolto alla prestigiosa cornice del teatro La Fenice di Venezia. Questo teatro è la casa di tutti nel segno della sostenibilità. Spettacoli, regione stabile insieme per far crescere gli artisti di domani, rinnovato l'accordo da 2 milioni di euro del progetto Teseo, tre anni di formazione per futili protagonisti delle scene. Bene, la rubrica culturale belonese giorno e notte, Valachi torna con 12 passi indietro, un album ricco di energia e collaborazioni. Dalle sonorità introspettive al pop, c'è tutta la passione dell'artista belonese, il 22 allo spazio ex l'evento di lancio. Oggi invece a una montagna di libri, Putin, le brigate russe e gli attacchi informatici, appuntamento alle ore 18 al Miramonti, Magessi, Grand Hotel di Cortina. Domani invece, domani serata in Nevegal, volevo vedere la tundra, appuntamento alle 20 e 30. Sport belonese, la protagonista del 2022, Stefania Constantini, in archivo 12 mesi indimenticabili, ma avrei voluto godermi di più certi attimi. La campionessa olimpica del curling è il personaggio belonese dell'anno. A otto anni sognavo questi momenti, i sacrifici sono stati ripiegati. L'intervista vi aspetta a pagina 33. E sempre a proposito di lei, Irene De Silvestro ha cinque cerchi dopo le Olimpiadi Mirino-Su mondiali. Il Cadorino è tornato da Pechino con due medaglie. In Spagna dal 19 al 29 gennaio punta a migliorarsi. Continuiamo con lo sport. Il protagonista, Axel Bassani, è già tra i grandi, ma il futuro è tutto da scrivere. In questo caso, moto mondiale. L'anno ha sancito la definitiva esplosione, scusate, scusate, in superbike. Il pilota di Seren ora punta a partire su una moto ufficiale. Dante, belle notizie riferite a personaggi bellonesi nel mondo dello sport. Il tecnico del Feltre, il boom della palla ovale. Coppa quando il rugby diventa anche scienza. La crescita del Feltre non è casuale. Il suo coach ne è la mente. Un passo dopo l'altro, anche la B potrà iniziare a starci stretta. Un'intervista, in questo caso, a Giovanni Peloso. E continuiamo con lo sport. C'è una squadra a lavoro nell'ombra e quella degli scout. Sei giocatori capitanati da Stefano Macchi perlustrano il territorio in cerca di talenti. Scinordico Eliabarp, esordio da veterano in Coppa del Mondo. L'atleta trichianese finisce davanti ad alcuni volti noti del fondismo. È stata dura e i ritmi sono diversi, ma mi sento bene. Ora sotto con la 10 km tecnica classica e la 20 km tecnica libera a Oberstdorf. Calcio ancora. L'avvocato arbitro fa carriera nell'AIA. Alberto Gatz entra nel collegio Probiviri. Atletica, la valle va di corsa. Atletica Zoldo prema tutti i suoi campioni. Calcio a 5, Serie C1. De Francesca al 9 per tornare in B. È un futsal diverso rispetto al bellunese. Volley Under 17, torneo Vezza in Germania, Slikovski è in Azzurro. Basket Serie D, Scanu per restare quarti serviranno grandi gare. Ancora sport. Calcio di Serie B. Dariva un Veneto alla corte di Mancini. L'Azzurro è il grande sogno. Lavoro duro. La mezzala del Como, nato a Montebelluna, chiamato allo stage Azzurro di Coverciano, ha 22 anni, è dell'Atalanta, vive a Pieve di Soligo. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo nuvoloso e molto nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa, 5-25% di sporadiche e deboli. Precipitazioni soprattutto nel pomeriggio sera, limite della neve oltre i 1500-1700 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna e vi ricordo che torneremo in Rembrica questa sera via streaming alle 20 domani mattina a luna, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio BM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie.